Un uomo deceduto, camion in fiamme, autostrada paralizzata con code chilometriche. È questo il resoconto di un lunedì mattina nero sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Imola e il raccordo per Ravenna. La tragedia stradale è accaduta poco prima delle 8 in direzione sud ed è stato il risultato di un tamponamento tra due camion, uno con targa bulgara e uno croato, che si sono poi ribaltati ed hanno preso fuoco. Immediata la richiesta per i soccorsi, in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanze e degli soccorso, vigili del fuoco con diversi automezzi partiti da Lugo, Bologna e Imola e la polizia stradale da Ravenna, Forlì e Bologna. Il camionista del mezzo, con targa croata, che trasportava materiale in vetroresina, è rimasto bloccato all'interno della cabina ed è morto carbonizzato. L'altro autista invece è stato trasportato, con un codice di massima gravità, all'ospedale Bufalini di Cesena. Le generalità della vittima, probabilmente croata, non sono al momento note. La dinamica del sinistro è al baglio della polizia stradale di Ravenna. Gravissime le ripercussioni sul traffico ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a Imola per i mezzi provenienti da Bologna. Nell'opposto senso di marcia è stato istituito invece il traffico di una sola corsia di marcia ed è intervenuta la protezione civile per la distribuzione di bottiglie d'acqua e il personale di autostrade per l'Italia.